Sposto in procura per la contromanifestazione da parte di militanti di sinistra e omosessuali di sabato scorso in Piazza Mazzini durante la manifestazione delle sentinelle in piedi. Questa mattina Marco Galateo, esponente della Lega Nord Alto Adige, si è presentato in tribunale consegnando l'esposto in procura per chiedere chiarimenti. Al momento non è infatti ancora chiaro se la contromanifestazione sia stata autorizzata o meno. Sentiamo ai nostri microfoni Marco Galateo. Sì, per raccontare anche alla magistratura quanto è avvenuto sabato mattina a Bolzano in Piazza Mazzini in occasione di una manifestazione a cui abbiamo aderito come private cittadini che si chiama Sentinelle in piedi, cioè per capire si sta un'ora in piedi in silenzio a leggere un libro qualsiasi per manifestare contro il DDL Scalfarotto che è una legge secondo noi liberticida che priva il cittadino della sua libertà di espressione, contro il disegno di legge Cirinna che di fatto pone in essere l'utero in affitto e a sostegno della famiglia naturale, quindi per capirci quella composta da mamma e papà. Ci sembra un diritto costituzionale che dovrebbe essere garantito a tutti quello di esprimere il proprio pensiero, così non è per un manipolo di comunisti guidati dal presidente del Consiglio Comunale uscente Guido Margheri che si è presentato lì pare senza autorizzazione, questo è quello che oggi siamo venuti a chiedere, alla guida di un gruppo con bandiere, cori, parolacce, insulti, offese, veramente delle peggiori specie, è stato imbarazzante anche doverle scrivere e ci sembra che questa sia una pagina triste per la città, cioè persone che hanno dei ruoli in carichi istituzionali che pongono in essere delle manifestazioni non autorizzate. Questa pagina secondo noi va chiusa, Bolzano deve tornare ad essere quella città serena che era prima, sicura, serena e anche la politica deve fare questo scatto d'orgoglio. Ci sono stati dei tentativi di incursione, le forze dell'ordine che ringraziamo in quanto privati cittadini perché noi non siamo tra gli organizzatori e vogliamo ringraziare anche gli organizzatori che si sono visti un po' come dire defilare l'attenzione rispetto a quello che era lo scopo della manifestazione stessa. Le forze dell'ordine sono state bravissime perché nessuno di noi fortunatamente è stato raggiunto da questi soggetti che evidentemente non conoscono la democrazia e il principio della libertà di espressione del pensiero.